È stato approvato oggi dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile l'elenco degli interventi sostenuti dagli enti territoriali liguri per far fronte ai danni della mareggiata che ha colpito il litorale ligure lo scorso ottobre. In totale 6,5 milioni stanziati dalla Protezione Civile Nazionale per le somme urgenze e per gli interventi di prima emergenza che si vanno ad aggiungere al milione e mezzo di risorse già stanziate da Regione Liguria. È stato il capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, a dare l'ok agli interventi inseriti nella richiesta del Commissario per l'emergenza e Presidente di Regione Liguria Giovanni Totti. Sul totale dei finanziamenti previsti 2,7 milioni serviranno per coprire le spese sostenute dai comuni per interventi di assistenza, soccorso e tutela della popolazione e i restanti 4,7 milioni di euro per il ripristino dei servizi di viabilità. Sono 57 i comuni a cui sono destinati i finanziamenti, 7 in provincia della Spezia. Il Comune della Spezia, Amelia, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Framura, Maissana, Monte Rosso al Mare, Porto Venere, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Zignago e la provincia della Spezia. Per quanto riguarda la viabilità, i finanziamenti previsti serviranno ad intervenire per la messa in sicurezza delle strade crollate, a seguito del maltempo e ripristinare punti e attraversamenti. Accanto a questi interventi che potranno essere finanziati subito, si aggiungono ulteriori 8 milioni di euro stanziati nella legge di stabilità per le difese a mare in Liguria. Si tratta di risorse che saranno gestite dal commissario delegato per l'emergenza Giovanni Totti e destinate in particolare a quei territori maggiormente colpiti dalla mareggiata, come tra gli altri Imperia, Santa Margherita, Sestri Levante, Monterosso, Moneglia e Lavagna. Questi finanziamenti sono molto importanti perché vanno a coprire le esigenze manifestate dal territorio a cui i comuni hanno già dato una prima risposta, spiega l'assessore regionale alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone. A queste risorse si va ad aggiungere un milione e mezzo di euro che Regione Liguria ha stanziato immediatamente dopo la mareggiata che ci hanno consentito di intervenire subito nelle situazioni più gravi.